Come procede la love story tra Andrea, da Amante, e Giulia Delellis? Una delle ultime coppie, che si sono formate nel corso dell'ultima edizione di Cancelletto Uomini e Donne. E, questa è la domanda che si pongono sui sociali tantissimi fan dei due giovani innamorati che hanno avuto modo di conoscere e seguire per tutta la passata stagione nel corso del talk show della De Filippi. Un amore che ha fatto sognare molti spettatori da casa, e che continua a far sognare? Ecco nel dettaglio le ultimissime. Uedì, Andrea e Giulia innamoratissimi. Vi diciamo subito che la love story tra Andrea e Giulia di Uedì prosegue nel migliore dei modi, i due sono innamoratissimi l'uno dell'altro, così come hanno affermato in una recente intervista rilasciata in queste settimane e sembrano avere grandi progetti per il futuro insieme. Nel dettaglio 6 sveliamo che Giulia Delellis ha fatto sapere che i due hanno già intrapreso la convivenza insieme, contrariamente a quanto annunciato in precedenza da Andrea, che sembrava essere restio a vivere sotto lo stesso tetto con la sua amata. Giulia ha fatto sapere che da diverso tempo vivono insieme a Verona, poi quando hanno bisogno di spostarsi al sud si stabiliscono a Roma, dove la Delellis ha un'abitazione. Giulia e Andrea già pronti per le nozze. Il clamoroso colpo di scena di questa intervista, però, è venuto fuori nel momento in cui Giulia ha ammesso di sentirsi pronta per compiere un passo importante, ossia quello del matrimonio. Nonostante la giovane età, la ragazza ha affermato di sentirsi pronta perché ha capito che Andrea è realmente l'uomo della sua vita? I due in questi primi mesi, d'amore hanno capito di essere molto compatibili l'uno con l'altro e questo di sicuro, li aiuterà nel loro progetto di vita comune.